Buongiorno, questo è il nostro brunch di questa mattina, ombrina e ferri, verdura al vapore e lenticchie. Allora, lenticchie lasciate in ammollo tantissimo e poi messe su lessate, cotte e stracotte con il cuoceriso, come vi ho fatto vedere. Allora, a livello nutrizionale è fantastico perché ho il carbo e le proteine delle lenticchie, più le proteine e i grassi del pesce, più la verdura, quindi le fibre e un po' di carbo sanissimi. La mia dose ovviamente è più piccola, sono circa 2 etti pesato cotto del pesce, un po' di meno forse, 140 grammi di lenticchie pesate cotte, cotte e stracotte e circa 150-170 grammi di verdure al vapore. Paolo ha delle dosi decisamente più ciccione, il pesce almeno il 50% in più, la verdura anche, le lenticchie sono il doppio. Ok, e questo è il nostro bronzo di questa mattina. Condito tutto con un filo, un cucchiaino di olio di canapa.